Ciao ragazzi, oggi ho da proporvi un brano molto bello. Sto parlando della colonna sonora del film Pirati dei Caraibi. Quindi questa colonna sonora è molto famoso, molto conosciuta, ma è anche abbastanza impegnativa. Questo brano io lo voglio far fare ai miei alunni di prima e anche quelli di seconda, quelli che magari l'hanno già fatto o che non l'ha mai provato. Vi dico solamente che è abbastanza impegnativo e dobbiamo stare attenti. Per quelli che vogliono impararlo gradualmente devono sulla destra dello schermo usare la rotellina e ammettere la velocità a 0,75 e iniziare in modo graduale questo studio. Sono due pagine, quando arrivate in fondo al brano si torna da capo e poi si va fino alla parola fine che si trova all'inizio della seconda pagina. Quindi buon lavoro e buono studio a tutti. Grazie 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 a tutti.